Viste le numerose richieste ricevute, tengo a precisare che la procedura di tutela del cliente in materia di mutui irregolari è semplice e spesso molto veloce. In seguito allo studio di fattibilità con esito positivo, infatti, si procederà alla redazione di una perizia tecnica, onde accertare nello specifico le violazioni riscontrate e le somme da recuperare, che permetterà l'avvio della procedura stragiudiziale con l'invio della lettera di diffida alla banca. In caso di riscontro negativo o di mancato riscontro da parte della stessa, si procederà con l'invio dell'istanza per l'avvio della mediazione obbligatoria, che nel 45,8% dei casi dato fornitoci dal Ministero della Giustizia si risolverà con un accordo con l'Istituto di Credito in soli 6-8 mesi. Grazie per la visione!